Sono Maria Luisa Frisa, critico, fashion curator, direttore del corso di laurea in design della moda e arti multimediali dell'Università UOV di Venezia. Insegnare all'università per me è molto importante, mi costruisce quotidianamente a confrontarmi con gli studenti, a imparare con loro e a confrontarmi con i miei colleghi. Io sono Sofie Guillon, ma source di creazione è stata la traversa dei diversi quartieri di Venezia. Chacun dei vizi di Venezia m'inspire un sentimento che va s'exprimere di una forma diversa. Io mi piace molto camminare nella russa di Venezia perché ogni quartiere mi ha spiegato un temperamento o un'emotione differente. Quindi, alcuni quartiere, per esempio, al bambino extremmo, verso la mer, mi ha spiegato la libertà, la calzata, la libertà. Un quartiere, alcuni quartiere, che mi ha spiegato una sacralità perché vi ho molti di iglesi a Venise. Alcuni quartiere, alcuni quartiere, che sono un luogo di ricollimento Très èpanuissante, ma molto puissante di sacralità.